è un bel cavallino questo ha debuttato dieci giorni fa è un cavallo anziano però ha debuttato solo dieci giorni fa come è andato? ma è andato benino ha debuttato a Folloni ha fatto il debutto normale come devono fare cavalli ecco senza chiedergli niente ha fatto il giro tranquillo tutto va a piazza? si si è un bel cavallo è un bel cavallo tu è serio è bravissimo si è messo bene sotto e beh come hai detto lui lo voleva questo lo indirizzavo a piazza si si benissimo dillo ciao ciao ciao